Hanno affollato i nostri incubi nel corso dell'infanzia, quando erano loro i cattivi per eccellenza. I lupi tornano a far parlare ancora una volta dopo i numerosi avvistamenti anche a quote poco abituali. In Valluretta si susseguono ormai da settimane gli allarmi, con agricoltori o semplici amanti della natura che segnalano la presenza di questi canidi anche a poche centinaia di metri dalle abitazioni. Tracce, per tanti inequivocabili, le hanno lasciate sul territorio di Piozzano, dove un gruppo di piccoli cinghiali è stato assalito, e i corpi dilaniati degli ungulati sono stati rinvenuti nei pressi del centro abitato di Monte Canino. Il numero dei lupi sul nostro territorio è aumentato, io direi fortunatamente perché il lupo è comunque l'unico predatore che contrasta l'aumentare dei grossi ungulati, i cinghiali, i caprioli, i daini, i cervi eccetera. Quindi ben venga l'aumento di questi predatori. L'upi sempre più vicino alle case però si dice. Ma sempre più vicino alle case perché comunque il nostro territorio è notevolmente antropizzato. Cioè noi se siamo abituati a vedere i documentari del Canada o degli Stati Uniti dove ci sono pochissime case in ambienti grandissimi ovviamente non possiamo riportarlo su quello che è il nostro territorio. E soprattutto non ci sono mai state notizie di lupi che abbiano assalito gli uomini? Assolutamente, assolutamente. Il lupo è probabilmente uno degli animali più timidi che esistano. Se i lupi sono incubi per i più piccoli, questi animali così misteriosi e allo stesso tempo affascinanti rappresentano vera minaccia solo e soltanto per gli allevatori e alcuni di loro, sulle nostre colline, hanno scelto di affidarsi a metodi naturali ma comunque particolari per proteggere i loro preziosi amici. Abbiamo cercato di arginare il problema del lupo immettendo nel greggio il postore Maremmano Abruzzese che è una razza selezionata proprio per far la guardia alle pecore e per difenderle dai lupi. Per adesso noi abbiamo visto che i cani funzionano, non è detto comunque che qualsiasi cane Maremmano vada bene per questo compito. Ci vuole comunque anche un periodo di adattamento alle pecore, bisogna vedere che il cane non abbia comunque istinto predatorio verso il greggio. Il grosso problema degli allevatori è che fino ad oggi abbiamo potuto utilizzare solo dei metodi dissuasivi passivi che diventano poi obsoleti e inefficaci col progressivo aumento delle popolazioni di lupi. Voi cosa chiedete allora? Noi chiediamo, diamo spunto, diamo delle riflessioni, si potrebbe iniziare a ragionare come fanno in Francia, quindi un paese che è a noi vicino, a noi confinante, dove già da anni stanno contenendo le popolazioni di lupo. Questo significa innanzitutto monitorare e censire quelle che sono le popolazioni di lupi, cosa che fino ad oggi qui non è stata fatta. E poi fare un progetto che è previsto anche dai normali protocolli per il popolamento delle specie, perché la sovrappopolazione non è mai utile salutare per nessuna popolazione di specie viventi.